Ragazzi, questa è la doccia più trash nella storia delle docce Chiudi, ma... Ma... È bello awards È la faccia troppo grande, non c'entra l'inquadratura L'angolo sinistro non c'entra 50.000 like No, no, non di più Diciamo 60.000 like Webish Awards 2016, nel caso io vincessi Un bacio, Papà Vegas Però, un tocchetto di lingua Si gira Certo, ragazzi, qui sono io, il power, il power, il su di, il su di, ah, ma... Il su di... Ah, ma è solo una cosa Solo in 3 di notte, sai Se abbassi un battolo della voce Vabbè, il canale di su, no? Che stai facendo con Bert? No, è che... Ragazzi, io ho scoperto che Bert ha la capigliatura versatile, guarda È l'unione delle storie tese Ragazzi, non ridete le battute su, vi prego No, no, non la battute Seri, seri, faccia seria Dai, papà, partiamo col videotag Cos'è il videotag? Mi faccio vedere domani i videotag No, allora, lo scopro del videotag è taggare qualche YouTube per la fine del video Noi abbiamo qualche video da taggare Allora, facciamo così Iniziamo il videotag dalla fine del video Chi taggate per questo video? Allora Uno a testa Dell'imello È autolesionista Io taggo i cool endgame Uno dei più grandi fan dei cool endgame Cioè, sì C'è il good friend Chi cazzo sono? Sono sui decimila Ragazzi, un po' di spam per i cavi piccoli ci sta YouTube Non voglio il video Cosa c'è nella mia borsa tag? E poi devi taggare Bonetti E Zeb Nuovo trio di YouTube Del livello Bonetti Zeb E poi Visto che Zeb c'è la capigliatura di Jesse Pinkman ora Da una borsa di tirare fuori la metafetamina Ti metto a fare Tu si sento nel suo quattro Andiamo Con questo video mi ho tirato a mezzo a YouTube Italia Andiamo avanti YouTube Cioè, papà YouTube Cosa è YouTube? C'è tutti i YouTube dietro Sì, ma in tutto ciò abbiamo fatto alla fine del video Possiamo chiuderlo È finito No, il videotag ora Lo facciamo dalla fine Ora già fa l'inizio Ah, ok Tag Allora Facciamo Domande a caso tag Ok, ok Il videotag più bello che abbiamo mai partito Oh Ti Non ce l'ho mai Questa è la più grande idea che Papa Vegas abbia mai avuto Possibile quinta stella Ecco Dopo aver messo in cinta la pelletta d'Ox Ma Perché si sta sfogliando? Sono le più Ah, è fede, è mica Manda il mio like e vi mostro il capezzolo su Instagram Ma già l'hai mostrato Ma non quello per dove sono Oh Domande a caso Seconda domanda Quando l'hai fatto la prima? Non l'ho mai fatto la prima Concentrazione milionario è qui, eh Ak Siamo robati Alle due e mezza di notte Non è che mi vengono le domande Sai Ok, vai Qual è la mascot del vostro canale? No, deve essere proprio Ah, la mascotte del mio canale è Gianni Morandi Eh, non è proprio mascotte No Ha detto così No, deve essere all'impatto Vai Mert raga ho inventato la challenge più epica della storia come farci dare a youtube tag no questa domanda a caso c'è deve essere proprio ma deve essere scomodo queste sono le risposte di controllo balzo 3 secondi per rispondere ragazzi siete pronti? youtuber preferito multiplayer ma si chiama multiplayer vabbè ha cambiato il nome si vede che è preferito vai su più di vai muriel oh ci sta sono gusti non hai visto vabbè potrebbe essere la sua youtuber preferita di domani dose vedi tutti i video di muriel ma la fiducia è una fiducia allora lui deve andare allora scusa se questa era semplice facciamo una fiducia il vostro youtuber non preferito ehm 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 gli smosh in secondo canale con lo spagnolo ma è sorrido ma è sorrido deve essere veloce no sotto pressione non rego ti do il 50-50 ti do due possibilità autobasic perchè fa troppe visual senza fare un cazzo quindi però potrebbe essere odiato no? oppure 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 Tyler Oakley Tyler Oakley si perchè? perchè c'ha le ragazzine quindi odia anche Simone Pacello anche Riccardo Dose state dando troppo tempo a Riccardo per pensare breaking news ah no questo è Shai Breaking Italy ma è che è in Italia no povero Shai non so non so aspetta compiti a caso per Riccardo Dose domani tutti i video di Muriel e tutti i video di Shai vai vai il tema pornografico preferito su You Porn myth sorry tre secondi uno incesti con gli animali No lo so Perché? Usiamo il termine che lui ha detto Incesto con gli animali L'incesto è quando tu trombi la famiglia Con gli animali Vuol dire che lui deve trombare con il gatto Tipo della sorella Con tuo padre che era tra un gatto Una cosa assurda Vabbè Qua ti vi do 10 secondi perché è più difficile Fatti una domanda e datti una risposta Quanti anni hai? 19 Faccio una domanda e dati una risposta Cosa è successo nella tua adolescenza Che ti ha fatto cambiare la categoria portografica Passare quindi dagli incesti con gli animali E non lo so Un giorno ho scritto Maddox Videos E mi è uscito Cat Videos Così ho visto un polno fra gatti A chi regaleresti i tuoi iscritti? A chi regalero quel cazzo? Se devi scegliere Se stai morendo e devi regalare i tuoi iscritti a qualcuno A chi li dai? Greta Ma che cazzo regalare a Greta che ti surclassa? Ma è figo mo Guarda che i miei iscritti hanno il suo perché Quindi li regalerei a Greta Tutti in comune si disiscrivono da Riccardo Grazie per il mezzo dei miei iscritti Speciale meno 50 mili iscritti Cosa pezzi che succederà al tuo canale 2016? Cosa succederà? Allora io già in un mio fact time che vi invito a vedere lo trovate sul mio canale Iscrivetevi ad Awe Ho fatto una promessa che nel 2018 avrei raggiunto il milione di iscritti Quindi 2018 Quindi nel 2016 Rimani avanti da sempre Quindi nel 2016 Vi ho fatto il cacchio Ci metto a creare gli account in un giorno Allora 100 account ci metto Io ho cominciato a creare gli account e lasciando gli like su tutti i miei video Non scherziamo Non scherziamo Ragazzi te tatti che ti marti In 2016 Mezzo milione di iscritti È il mio obiettivo Surry A me invece gli iscritti non sono mai interessati Sembra di che spam ma hai iscritto di cazzo Sta tutto il giorno a vedere su socialblady gli iscritti che salgono Fammi vedere il tuo cuore No 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 Perché ste robe porno cazzo Eh l'ho fatto fede se non posso farlo io Minchia Comunque stavo dicendo La cosa figa per me è fare esperienze fige Quindi nel 2016 voglio andare in almeno altri tre paesi che non ho visitato Ok Non se ne frica un cazzo di voi su Che pensa a se stessi Vuole viaggiare Che ho molti soldi per viaggiare lui E poi cosa? Vi posto con me Falso Il cazzo di canale esterna Che ho progetti voluti Eh Avere un canale youtube Eh in questo momento Arrivare i 10.000 iscritti Non perdere 50.000 iscritti Non riesco a fare stream Dipende da quanti video fanno con lui Perché ogni volta Torno indietro Quindi sono 250 anni Dopo un mese E gli faccio lo speciale 100.000 E qui non casino Porca tra L'ora di marketing Che provo Sono speciali Massimo Due iscritti In più di oggi Cioè È come giocare in borsa Riccardo nel 2016 Deve riprendere la voglia di fare video Esatto Almeno un video ogni due mesi Ma aspetta Non c'è quella voglia nascosta Anche di ripetere il bacio dei Web Show World Basta Il bacio dei Web Show World Lui lo vuole rifare Web Show World 2017 Li vincerò E bacino Papa Vegas Facciamo una cosa Promessa Facciamo così È il Web Show World 50.000 like No 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 Di più Diciamo 60.000 like Web Show World 2016 Nel caso Io vincesse Bacio Papa Vegas Però Con un tocchetto di lingua Ma tutto il giorno Scusa Allora il video è di Suri I suoi soldi li fa Suri I like li fa Suri Tu ti stai spammando E prendi gli iscritti Noi non lo dico Perché sta prendendo gli haters Io che cazzo sto facendo In tutto il giorno Ti ho inventato il format Che ti sei preso Te me l'hai rubato a me Quindi Ma non è vero Io ti ho detto Devi fare un video tag E tu hai detto Vabbè facciamo una domanda a caso Questo era stato Il tuo inventare il format Cazzo guarda che è geniale Ovviamente ci tendiamo a dire Che questo è un video Puramente ironico Cioè io non avrei mai fatto Sto video Solo che mi hanno convinto Sulle tre notti Volevo andare a dormire Colgo l'occasione Per salutare Muriel Ebrek in Italy Ho stato arrivato Il tocchetto di lingua Vabbè Ultima domanda Spammatevi Non si spamma in una sola cosa Iscrivetevi al mio canale Perché sul mio canale Troverete anche Gianni Morandi Non hai detto come si chiama Hai perso la possibilità No Su rispamma tuo Spammami il mio canale Ah se vuoi che mi c'è la mia pagina Rispamma me l'avevo sbagliato Quanto mi hai? Quindi qui c'è anche la mia copa Ah Ti sta spammando Sì Ah doppia Wendy Su rispamma Cosa vuoi spammare? Cazzi sui te la mia pagina Su YouPorn È aperta da una settimana Chi cazzo ti segue Porca Eva Eh sì sì Riccardo Seguitemi sul canale Riccardo Dose Che si affilierà Dao Jones Il prossimo mese Per cercare di capire Un scritte finanziario Muglier Esatto Muglier boom Muglier boom Muglier boom Iscritti dopo Sarà un giovedì nero Porca Ragazzi Da domani Awed Riccardo Dose Serie su minecraft Iscritti appalati Non c'erano gli iscritti Qui ci vediamo Nel prossimo video E Qui ci vediamo Nel prossimo video E Papà Non è papà È Bonì Ma lui è Caciotti Ciao turuturututti Si vede che non si vede Segue i tuoi video Io direi di rifare il video Io direi di rifare il video Senza Awed Solo con Dose Ragazzi Questo video è finito Salutate Bert Lo ha dato il suo canale In descrizione Salutate Riccardo Dose Il suo non lo troverete E Semplicemente Ciao turuturututti